Il caldo va a 5 metri e ha un palloncino in mezzo a un settore, un settore alto, che da 60 punti, il B40, il C20, il B10, il B0. Poi bisogna che siano anche veloci perché meno tempo viene messo, più che il punteggio rimane alto. Parto il palloncino in posto, si allontano un po', Marco scappia il palloncino dell'imbalzo, andiamo a verificare se il suo settore è il settore A, quello da 60 punti. Da verificare in base a dove è battuto, non dove va a finire dopo. La prova dura ovvero durante la volta che è stata battuta va pulita, 39 paletti messi in sequenza, 13 per parte, da tagliare a zig zag, al massimo un centimetro dal tronco, tempo totale della prova, 15 secondi. Attenzione alla prova di Marco, perché è molto interessante. Partito forte Marco, finisce il tronco in meno. Stacca il paletto, veloce, Pausto, un po' indietro. Il partito è bene, consideriamo anche la differenza di età. E ora gli manca a lui, hai falto, l'altro colpo, vai e stacca anche lui. Pante il palo di Norris, vicino al palloncino, non so se l'ha toccato ma se Antonio ha avuto paura al palloncino. Il palo di Norris, vicino al palloncino, non so se l'ha toccato ma se l'ha toccato ma se l'ha toccata. 3, 2, 1, go!